ben ritrovati ben ritrovati su In Genere Horror io sono sempre Greg è uscito in sala il tanto atteso film di Isshana Knight Shyamalan esordio alla regia sì ma la regista è la figlia di M. Knight Shyamalan quindi grandissima attesa per il suo film d'esordio che è The Watchers loro ti guardano la vicenda è incentrata attorno a Mina una giovane donna protagonista del film che si ritrova in macchina per motivi di lavoro per un viaggio piuttosto lungo per portare una gabbietta contenente un prezioso pappagallino allo zoo durante questa strada si ritrova in una per un motivo misterioso una fitta fittissima foresta irlandese e da lì a piedi si troverà a vagare a piedi per attraverso questi altissimi alberi cercando di orientarsi cercando di trovare qualche anima arriva troverà una donna che la conduce in una casa che sarà poi il rifugio della nostra protagonista Mina il rifugio di questa il riparo per questa donna che incontra appunto che ha incontrato in questa foresta e di altre due persone un ragazzo una ragazza questi quattro personaggi meglio Mina con questi tre sconosciuti si ritrovano all'interno di questa casa e dovranno starsene belli belli rinchiusi soprattutto anzi di notte al calare delle tenebre perché poi di notte arrivano delle creature che a vederle e a sentirle soprattutto perché vederle non è molto facile in mezzo alle tenebre sembrano essere piuttosto minacciose e soprattutto questa casa una caratteristica ha una enorme enorme specchio dove i nostri protagonisti dovranno mettersi in piedi durante la sera o comunque all'inizio della notte per farsi vedere appunto da questi watchers da questi osservatori da queste creature osservatrici perché questo grande specchio all'esterno è sostanzialmente una grandissima finestra una grandissima vetrata questo è un po' l'inizio del film perché poi la vicenda si sviluppa e avrà come è un classico di casa Shyamalan una evoluzione una svolta e un colpo di scena beh come è andata allora la prova dietro la macchina della presa della figlia di Shyamalan perché purtroppo o meglio per lei vediamo si porta dietro inizialmente questa etichetta e Shyamalan dietro la macchina della presa cerca di dare un'impronta che sia chiaramente che è derivativa ma cerca di dare una sua impronta beh il film porta a casa di positivo una buona interpretazione un'ottima interpretazione da parte di Dakota Fanning che interpreta Mina che è sostanzialmente il personaggio principale centrale con il suo vissuto difficile che riporta anche all'interno della vicenda stessa nel suo sviluppo insieme al vissuto degli altri tre protagonisti che però sono purtroppo molto più superficiali molto più macchiette rispetto invece al personaggio secondo me riuscito interpretato da Dakota Fanning tutta la prima parte del film è uno scoprire il bosco i segreti del bosco il segreto il tentativo di scoprire il segreto di queste creature la casa e appunto scoprire poi chi sono questi personaggi e tutto questo con la paura di queste creature che di notte si ritrovano davanti si piazzano davanti a questa casa per osservarli mentre di giorno i nostri protagonisti possono anzi devono cercare di non tanto di trovare una via d'uscita da questa fita foresta perché sembra non esserci via d'uscita ma trovare almeno sostentamento trovare qualcosa da mangiare per riuscire a sopravvivere perché il tempo passa e la speranza di riuscire a venire fuori da questa situazione diventano speranze diventano sempre meno però ripeto c'è una svolta e poi ci sarà il resto il resto del film film che cerca di andare ad arricchire il tutto con completando e arricchendo arricchendolo di sottotesti arricchendolo di una storia che vuole parlare e cerca di parlare dell'essere umano della razza umana dell'inclusione del fatto di riuscire a vivere in armonia e questa cosa lo si capirà nel corso della narrazione dall'inizio sì della parte centrale ma poi verso la seconda metà e l'atto conclusivo del film e questa situazione tra esseri umani queste creature che di umano sembrano appunto non avere non avere nulla ma la centralità del concetto di il diritto di utilizzare il mondo la natura la terra che sembra un qualcosa di un ambiente esclusivo da parte dell'essere umano è un po questo il concetto che si vuole portare avanti già a partire dal fatto che la nostra protagonista tiene in gabbia un papagallino papagallino che è utilizzato sarà utilizzato in uno zoo quello lo scopo per essere osservato dagli esseri umani ma che poi avrà anche questo una una sua importanza perché questa questa gabbietta effettivamente se la tiene sempre ben stretta la nostra protagonista perché è qualcosa è l'unica cosa che la tiene legata ad una realtà che conosce ed è comunque una missione che quella di portarla allo zoo che si è abbandonata vorrebbe dire abbandonare sostanzialmente totalmente le speranze di uscire da questa misteriosa da questa misteriosa foresta con tutti i personaggi danno struttura al film anzi è proprio mina ad avere questo passato che ritorno questa situazione questa situazione che la lega anche soprattutto alla sua a sua sorella il concetto di un legame forte con la sorella un concetto che vorrebbe anche richiamare se vogliamo il doppio il doppio di una situazione vissuta da entrambe il doppio che se vogliamo lo si intuisce anche in questo specchio dove lei innanzitutto ma tutti i protagonisti si vedono specchiare però tutto quel tutto questo che vi sto raccontando secondo me è portato avanti da una sceneggiatura che convince poco perché perché pretende tanto la sospensione dell'incredulità ci sta in un fantasy ci sta in un fantasy horror ma ci sono forse troppe carenze e alcuni buchi che non fanno tornare quello che a un certo punto la regista vuole dichiarare vuole esprimere ma che poi non torna completamente c'è il colpo c'è un colpo di scena immancabile ovviamente casa Shyamalan si diceva ma il padre è maestro di questi colpi di scena li fa funzionare a livello di messa in scena a livello di montaggio di costruzione di quello che è l'avvicinamento al colpo di scena qui la sorpresa c'è anche se non così clamorosa perché comunque come ci si arriva lo si fa con un film che nella seconda parte e verso appunto quello che sarà poi l'epilogo perde di mordente a livello di montaggio a livello di struttura a livello registrico e soprattutto a livello anche di di scrittura tentativo di una messa in scena interessante c'è ma ripeto qualcosa manca e soprattutto con l'andare avanti di una situazione che vede una prima metà un po' troppo allungata per rappresentarci presentarci questo bosco questa situazione i misteri le creature per poi cominciare a svilupparla la vicenda per poi cominciare a raccontarci cosa sta dietro a tutto ciò secondo me raccontandolo fin troppo potenzialità di una storia ci sono e c'erano e sono notevoli c'è anche la delicatezza se vogliamo nell'affrontare una storia che dovrebbe emozionare che in parte ci prova ma che secondo me appunto da un punto di vista tecnico a un certo punto si perde un po' perché quando si doveva veramente dare il massimo quando veramente il film doveva esprimere il massimo del suo della sua componente emotiva lì non ha la struttura la forza che dovrebbe avere problemi di probabilmente di scrittura come dicevo di sceneggiatura problemi probabilmente di una regia ancora acerba ma forse problemi anche di una regista che forse è troppo controllata dal padre non vorrei che fosse la nostra regista il pappagallino in gappia ancora o perlomeno sembra quasi essere ancora una ragazzina una bambina che gioca in giardino controllata dal padre che è a livello di produzione dietro a tutto il progetto ma che forse dovrebbe questa è un'idea mia lasciare che la figlia faccia la sua strada mettendoci quello che è del suo se ne ha da raccontare se ne ha da dire a livello anche registico perché abbiamo altri casi di figli d'arte ce l'abbiamo come anche in cronenberg ma abbiamo visto che lì con il figlio di cronenberg si è già preso una via decisamente diversa piaccia o meno ma c'è una via diversa qui sembra ancora essere un qualcosa di acerbo un qualcosa di indivenire però diciamo che Isshana Shyamalan ha tutta la possibilità tutte le possibilità di far vedere le sue qualità e di poter dimostrare con i prossimi film di poter anche camminare con le proprie con le proprie gambe registicamente ovviamente ma soprattutto essere derivativi sì ma non creare per forza una squadra Shyamalan che faccia un po' gli stessi film questo in particolare questo The Watchers diretto da padre Shyamalan da M. Night Shyamalan probabilmente sarebbe stato un qualcosa di forte di notevole qualcosa che richiama film e situazioni già viste ma non è un problema perché se lo si fa con la forza registica del padre con i colpi di scena con il coraggio di certi colpi di scena il coraggio di una certa messa in scena allora il film prende forza e potenza comunque non da bocciare assolutamente anzi da vedere con curiosità e per dare soprattutto secondo me una possibilità a che questo acerbo che ho visto nella regia e in una sceneggiatura che è insomma un po' traballante un po' un po' fragile un po' esile ecco la possibilità di fare ben di più con il prossimo film buona visione se non l'avete ancora visto lasciate un commento come al solito noi ci vediamo alla prossima grazie